Buongiorno, buon sabato mattina, ben ritrovati per il consueto appuntamento con la rassegna stampa Occhi giornali, siamo in diretta, sono le 7.30 del mattino e naturalmente qui è tutto pronto Abbiamo già i nostri quotidiani sul touchscreen, però come sempre procediamo con ordine Guardiamo il santo del giorno e poi le previsioni del tempo E quindi allora oggi per quanto riguarda la chiesa, sabato 6 agosto, si osserva la trasfigurazione del Signore Il sole è sorto alle 6.02 e tramonterà alle 20.26 Previsioni del tempo, guardiamo subito che cosa ci rimanda come dati la nostra centralina Il nostro osservatorio meteorologico che vi ricordo potete consultare in qualsiasi momento della vostra giornata Quando volete, andando sulla nostra pagina web, cliccando sulla stazione meteorologica E avrete in tempo reale quelli che sono i dati da lei espressi In questo momento abbiamo una temperatura di poco superiore ai 19 gradi Umidità 75%, probabilmente in virtù delle piogge Insomma questa è la temperatura al suolo in questo momento Vediamo anche l'immagine della webcam C'è una webcam proprio qui sopra che inquadra la zona di Montegiove Le nuvole ci sono L'immagine è questa Questa finestra così virtuale ci mostra questo E devo dire che anche sulla simbologia che ha messo la protezione civile delle marche Il servizio meteorologico del quale noi ci avvaliamo per le previsioni del tempo E' alquanto esaustiva, come vedete nuvole e pioggia Un barlume di sole nella nostra provincia Per il resto la regione è un disastro possiamo dire Nuvoloso, molto nuvoloso Però ci sarà una graduale attenuazione della copertura Nella seconda parte della giornata Però a iniziare appunto da nord Le precipitazioni ci sono Anche a carattere di rovescio, di temporale Però insomma andrà scemando nel corso del pomeriggio Questa fase del maltempo Le temperature, ecco vedete In sensibile diminuzione Quindi ci scordiamo i 30 e passa gradi Insomma dei giorni scorsi Per domani cambia radicalmente Il tempo Si attesta su un sereno o poco nuvoloso Ci saranno degli addensamenti nelle zone interne Durante le ore più calde della giornata Però vedete Nella provincia di Pesano La zona nord delle Marche Insomma anche lungo il resto della costa Il sole c'è, persiste Precipitazioni sono date per assenti E le temperature tenderanno a risalire Vediamo lunedì inizio della settimana Ecco la situazione rimane quella più o meno Di domenica E quindi si va verso Verso il bel tempo Le notizie Allora vi faccio vedere le notizie Andiamo subito con L'appello della mamma Di questa ragazza Che da mercoledì Non dà più notizie di sé C'è stato un tantamma anche Sui social network Ieri E richieste di avvistamento Chi la vede La mamma giustamente dice Chi la vede o chi l'ha vista Ce lo faccia sapere Mamma dice Vado a trovare un'amica Luisa 18 anni Non torna più a casa Da mercoledì scorso Non si hanno notizie Della studentessa di Vallefoglia Questa è la foto Questa e altre sono anche su Facebook Proprio per cercare di avere Qualche traccia Qualche segnale Per lo meno da chi l'ha vista Rimaniamo nelle pagine Del Corriere Adriatico Abbiamo iniziato con Con questa Insomma Un'avventura Una disavventura Quella che poteva essere Una bella giornata Per dei ragazzini Che prendono il mare In barca a vela Si è trasformata In insomma Momenti di panico Perché gira il vento E insomma Quando cambia il vento Chi va per mare lo sa Insomma Cambiano un po' le condizioni Quindi paura in mare Ragazzini in Valia delle Onde Una decina di allievi Della scuola di vela Sono stati soccorsi Dalla guardia costiera Che prontamente E' uscita in mare Per andare in loro soccorso E poi Avete visto quella sfuriata Di maltempo Poco dopo le 18 Di appunto ieri pomeriggio A Mondolfo sono Cascati Chichi di grandine Grossi come acini d'uva E a Fano C'è stato un fuggi fuggi Dalle spiagge Perché chiaramente Non era il caso Di rimanere sotto l'ombrellone Buone notizie Per Fano e Pesaro Sono in arrivo fondi europei Per oltre 6 milioni di euro E sulla riqualificazione urbana Nel capoluogo ci sarà Un lavori per Palazzo Ricci Mentre nella città della fortuna Quindi a Fano Si punterà su Casa del Carnevale E del jazz Appunto nell'ex convento Di San Francesco Fano e Pesaro Appunte unite A ritmo di musica E quindi sarà Bello Per lo meno per Fano Finalmente avere Questo museo Del Carnevale Che da tempo Viene richiesto Rimaniamo a Fano Con il resto del Carlino Perché i ragazzi Di ritorno Della GMG Insomma Incontrano Il Vescovo Nella Sala della Concordia Tanta gioia E insomma Dicono Che questa gioia Abbia contagiato Sia il sindaco Che il Vescovo Ricevuti in comune Alcuni dei 120 ragazzi Della GMG Guardate che Bella foto Che si sono fatti Sullo scalone Del comune Tutti quanti insieme Vedete qui c'è Il sindaco Il Vescovo E l'assessore L'assessore Barniese Insomma Il Vescovo dice Il pessimismo Della vita È pericoloso Le Marche Sono Regione Una Regione Troppo Nichilista Rimaniamo Nelle pagine Del resto Del Carlino Andiamo Nella pagina Di apertura Quella che Apre l'inserto Naturalmente Di Pesaro E provincia Fotolotizia Si parla Appunto Della notte Di San Lorenzo Che ripropone Le candele Insomma Sull'acqua Tutti in spiaggia La notte Di San Lorenzo Per 20.000 Con 20.000 Luci E poi si parla Di Via Colbe Che l'estate Se la passerà A senso Unico E anche qui Troviamo L'appello Per Luisa Torna a casa Preoccupati Appunto I genitori Anche nel resto Del Carlino C'è l'appello Della mamma Della studentessa Scompassa I genitori Dicono Sono Preoccupati Non abbiamo Appunto Notizie Da mercoledì Le ricerche Si estendono Anche a Cattolica Ultima Pare Destinazione Della ragazza Prima di far Perdere le sue Tracce L'appello Della madre Se ne è andata Di sua volontà Ma vorremmo sapere Dov'è E se ha bisogno Di qualcosa Se ha bisogno Di aiuto E poi Sapere anche Il suo Stato di salute Ladri in azione In via Flaminia In un bar A tabacchi È un orario Insolito Perché Insomma Hanno tentato Una spaccata In un orario Abbastanza Inusuale 13.30 E 14 Del pomeriggio Hanno tentato Di buttare giù La vetrina Il titolare Che vedete Nella foto È sconcertato Perché è una cosa Che non era Mai successa Mai accaduta E poi Carabinieri Sempre all'azione Anche quando Non sono In servizio Occhio lungo Un appuntato Con sicuramente L'esperienza Del suo Del suo Lavoro Fiuta Che qualcosa Non va Nell'iperrossini E ferma Due taccheggiatrici E recupera Un bottino Da 500 Da 500 euro Per Fano Nel resto Del Carlino Si parla Delle opere Compensative Della 14 Ieri Nella conferenza Stampa Consueta Il sindaco Ha parlato Di questo Salvato Il casello Ok Ha un ponte Nuovo Sul Foglia Il sindaco Esulta Per le opere Compensative Un grande Risultato Si parla Di oltre 60 milioni Di euro Al via libera La convenzione Con la società Autostrade E l'assessore Cristian Fanesi Dice È una delle Opere più importanti E della Opere più importanti Opere pubbliche Naturalmente Per la città di Fano Dal dopoguerra Ancora Nelle pagine Del resto Del carlino Che parla Di Fano Presentato Ieri Il paese Dei balocchi La prossima edizione Che vedrà Come sindaco Del paese Dei balocchi Una persona Un sacerdote Che non ha Certo bisogno Di presentazioni I donciotti Un'icona Della Insomma Della lotta Contro Le mafie E l'illegalità Sarà lui Il sindaco Si incomincia Lunedì Ci sono tante Novità Anche per Questa edizione Ci sarà Una tv Online Fatta da Delle Ragazze Di ragazzine Insomma Tredicenni Di Bellocchi E poi Un bus Insomma Tante iniziative Andate a leggere Quello che dice Il carlino Su questo Ne parleremo Poi anche Anche noi E insomma Vi daremo Ampio Riscontro Ritorniamo Nelle pagine Del Corriere Adriatico Vi faccio vedere Le altre Che abbiamo Preparato Sempre per quanto Riguarda Fano Si parla Nella pagina Appunto Della Città Della Fortuna Del Corriere Del referendum Che è Passato Con un sì Unanime Nel consiglio Comunale Quindi Un referendum Che come dice Lorenzo Furlani Compatta Tutta Tutta la politica E il referendum A ottobre È un sì Unanime Insomma Quindi ci sarà Il referendum Sulla sanità Poi Ancora Nelle pagine Di Fano Del Corriere Adriatico Botta e risposta Tra le due associazioni Confesercenti Risponde A Confcommercio Renzo Capecchi Di Confcommercio Aveva detto Manca La Fano Del Cesare Manca Un evento Portante Insomma Da tempo Capecchi Punta Insomma Su questo Tabata Su questo Tasto Ma La Confesercenti Risponde E dice Un'identità Turistica C'è È riduttivo Puntare Tutto Sulla Fano Del Cesare Per l'associazione Appunto Gli eventi Sono ben caratterizzati Si rilanci La Marinaria Marinaria Avete capito E Ancora Nelle pagine Del Corriere Adriatico Insomma Il bel Il bel abbraccio Del Vescovo Trasarti I ragazzi Di ritorno Dalla GMG Tante testimonianze Ho capito Che la vita È bella Appunto Queste sono le parole Di chi è stato Alla GMG Con Insomma Con Trasarti C'era anche appunto Il sindaco Seri La promessa Di cambiare il mondo Di darsi Di darsi Da fare Insomma E quindi Insomma Queste saranno Le intenzioni Di questi ragazzi Per i prossimi tempi Festa del mare Il Vescovo Invita Al rispetto Dell'ambiente L'evento Oggi E domani Quindi insomma Un evento Che Per quanto riguarda Fano È un evento Importante La marineria È un Asse portante Dell'economia Lo è sempre stato Anche tuttora Anche se si è Evoluto Dell'economia Fanese E quindi insomma Il mare E questo rapporto Della città Con esso Viene suggellato Viene Come dire Sottolineato Con questi due giorni Una festa che ritorna Un po' Un po' Al passato Quando insomma Si usciva in mare Si faceva una pescata E poi Si ritornava sulle banchine Si cucinava pesce Per tutto Insomma È un po' Un filo Che è stato ripreso In questa edizione 2016 Ultime due pagine Che vi faccio vedere Per questa rassegna stampa Di questo sabato mattina Siamo a Pergola Rimane nel cuore Siamo nella pagina Che tratta Della Val Cesano È in crescita Il turismo straniero Nella città Dei bronzi dorati Stretto legame Con olandesi E tedeschi Quest'anno Sono arrivati Ospiti Anche francesi Insomma Francesco Baldelli Il sindaco di Pergola Dice La passione Che usiamo Per curare La nostra città Viene percepita E qui insomma Questa è la risposta Insomma Di chi Di chi apprezza Questo nostro modo Il nostro modo di fare L'ultima pagina Che vi propongo È quella di Senigallia Sempre dal Corriere Adriatico È insomma Una pagina Che parla Di un episodio Che si era Presentato Sicuramente Sgradevole E spiacevole Per dei vacanzieri Ma che poi Insomma Grazie L'estro Creativo Dei poliziotti Si è trasformato In qualche cosa Di comunque Piacevole Perché Truffati Per una casa Fantasma Due coniugi Pagano la caparra Ma l'alloggio Non c'è Chiaramente Si rivolgono Le forze di polizia E i poliziotti Per non Insomma Non trasformare La loro vacanza In un incubo Si improvvisano Agenti immobiliari E trovano Un appartamento In affitto Fantastico Al vento Sono andati 700 euro Però Gli agenti Impietositi Salvano la vacanza A marito E moglie Insomma Un grazie Sicuramente Sincero Gli sarà Gli sarà Arrivato E insomma Il vicequestore Aggiunto Maurizio Ricari La polizia Consiglia Di affidarsi Sempre E comunque Ad agenzie Immobiliari E a siti Affidabili Sul web Non come dire Così Affidarsi A improvvisati O a cose Che possono essere Come dire Nasate Per poco Piacevoli Bene Questo è tutto Grazie per essere stati In nostra compagnia Per occhio ai giornali Che naturalmente Tornerà lunedì mattina Puntuale Alle 7 e 30 Bene Grazie Non mi rimane altro Che tempo permettendo Augurarvi Buon fine settimana A tutti voi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti